La domanda che mi vorrei porre oggi è come poter aiutare i nostri bambini a vivere questo momento storico molto difficile e dare a loro delle possibilità, comunque un appoggio, per poterlo superare al meglio, per poterlo transitare al meglio. Come già parlato martedì durante la trasmissione su Radio Babboleo, quella settimanale in cui si fanno pillole di psicologia con Paolo Servente, il tema della guerra spiegata ai bambini è un tema molto importante, perché noi sappiamo benissimo che non possiamo lasciarli al di fuori di questo momento particolare, perché comunque le immagini sono sempre presenti su tutti i giornali, in tutti i canali della televisione a qualsiasi ora e anche sui nostri device, che possono essere l'iPad, che tante volte usano i bambini con il nostro account YouTube e quindi vedono i filmati che vengono proposti a noi. Sappiamo anche che la televisione è uno degli strumenti più dei mezzi di comunicazione e degli interlocutori più prepotenti che esistano, perché comunque non interrompe mai di parlare e soprattutto impedisce alle persone, ad esempio se lo guardano durante una cena, durante un pranzo, di poter dialogare tra loro. E molte volte c'è il telegiornale in queste ore e le persone si sintonizzano. I bambini vedono delle immagini veramente molto crude e molto difficili da spiegare. Allora proviamo a dirci tre atteggiamenti da avere nei loro confronti e tre atteggiamenti da non avere nei loro confronti. Il primo atteggiamento da avere è quello di rispondere alle loro domande, non sollecitarle, ma rispondere se ci fanno delle domande, perché se noi non rispondiamo, loro fanno immagini ancora peggiori e se hanno qualche visto qualche cosa alla televisione o su qualche mezzo di comunicazione, loro lo amplificano con la loro fantasia, con la loro immaginazione e diventa per loro ancora più difficile da digerire. Ma non dobbiamo andare oltre, dobbiamo fermarci alle loro domande, cercando di dare delle spiegazioni, rassicurandoli però, che papà e mamma ci sono sempre per loro. Secondo atteggiamento è dire sempre la verità, perché se noi mentiamo e siamo gli adulti di riferimento, cioè diciamo che non succede nulla, di non preoccuparsi, che non è vero, che c'è la guerra, comunque è lontana, loro avranno delle percezioni interne per cui si renderanno conto che invece il clima sociale è cambiato, le persone non parlano d'altro e quindi si troveranno nella spiacevole situazione di dover scegliere tra credere all'adulto di riferimento, al papà, alla mamma, oppure alle proprie sensazioni interne. Quando questa è la situazione che vive il bambino sicuramente va in confusione ed è veramente una situazione brutta per lui interiormente, dovrà scegliere tra credere agli adulti o credere a se stesso e a quello che prova. Quindi è importante rispondere e dire una verità che non sia spaventosa, che i bambini possano reggere e che possono altrettanto sentirsi contenuti emotivamente dai propri genitori e adulti di riferimento in modo da non sentirsi sopraffatti da queste ansie e angosce che vivono. Terzo atteggiamento, ribadiamo sempre loro che siamo disponibili a parlare di queste cose, che non ci tireremo mai indietro, non faremo mai battute che minimizzano i loro sentimenti e le loro paure, che anzi le comprendiamo, le accettiamo, li rassicuriamo e cerchiamo anche a volte di farli sentire più partecipi in maniera positiva, chiedendogli di fare un disegno in cui loro cercano di esprimere la loro paura ma anche il loro desiderio di pace o di fare un piccolo gesto, appendere una bandiera, un piccolo messaggio, fare dei pensieri, quindi regalare a loro la possibilità di esprimersi in maniera positiva, di partecipare con un atteggiamento di tipo positivo. E adesso diciamoci le tre cose da non fare. La prima è quella di non avere costantemente un flusso di informazioni, televisioni sempre accese, iPad sempre alti, immagini continue, discorsi continui a tavola sulla paura della recessione, sulla paura dell'estensione della guerra, sulle nostre paure e soprattutto quando si tratta di televisioni o apparecchi elettronici, non lasciarli da soli di fronte a questo. Soprattutto se sono al di sotto dei nove anni, cercare di evitarli e di vedere queste immagini, ma se per disgrazia arrivano dovete essere presenti anche voi. Dobbiamo essere presenti da adulti in modo tale da poter mediare. Secondo atteggiamento da evitare è fare paragoni inappropriati. A volte per spiegare cosa voglia dire un conflitto, una guerra, un conflitto mondiale, si arriva a usare dei paragoni più vicini ai bambini, cioè a dire quando si litigano tra fratelli, che però le persone possono non essere d'accordo e che quindi poi si litiga, si discute, anche mamma e papà. E questo non bisogna farlo perché in realtà discutere e avere un conflitto con un'altra persona può aiutarci a entrare in intimità. Non è per forza distruttivo come una guerra. La guerra non è solo un conflitto o un litigio, è qualcosa di molto di più. E quindi trovare delle parole che possano spiegarlo senza utilizzare paragoni inappropriati. E l'ultimo atteggiamento da non avere con loro è quello di trasmetterli e addossargli le nostre ansie. Se i nostri bambini fanno delle domande sulla guerra e noi cerchiamo di rispondere, essendoci documentati, avendo cercato anche magari qualche risposta da qualche esperto che ci aiuti ad avere le idee più chiare, poi però non dobbiamo iniziare a fornirgli materiale, leggergli delle cose, vedere dei film, cercare di fare degli approfondimenti. Perché questo non è quello che ci sta chiedendo il bambino o la bambina che abbiamo di fronte. Questo è quello che è la nostra ansia, il nostro bisogno di avere tutto sotto controllo e di poter avere più spiegazioni. Il bambino si accetta quello che noi gli diciamo se sente di essere protetto da noi. E questa è la cosa più importante che noi possiamo lasciargli.